Sono in una zona della casa che non conoscete, perché? Perché oggi insieme facciamo l'albero di Natale. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Insieme oggi decoriamo l'albero e vi dico già che vedete delle persone che non conoscete, tipo mia sorella e mia sorella che passeranno ogni tanto e anche una piccola aiutante che con il suo muso c'è una mano però appunto il mio albero di Natale viene fatto in mezzo alla casa di passaggio quindi vedete un po' di via vai, però anche questo appunto fa l'albero delle cose. Io spero che questo video vi piaccia, anche se è un po' diverso dal solito. Se così potrebbero sapere come mi piace, così magari vi faccio anche qualche altro video diverso non solo le creazioni che realizzo sempre. Vi mando un grosso bacio e vi lascio al video. Ciao! 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 Ciao!